Torna qui sul palco con noi Roberto Vecchioni. Grazie, grazie mille. Intanto buongiorno a tutti. Ricomincerai da dove ho lasciato, cioè quella piccola definizione in cui dicevo che etimologicamente la bellezza, il bene e il bello sono simili. Nel senso che il bello, l'estetica, il bello, il buono, scusate, l'estet anche prima ho fatto lo stesso errore, l'estet è il bello. La bontà, il bene trascinato fuori diventa bello, non è sempre così, ma in realtà in regola dovrebbe essere questo. Cioè tutto quello che di bene, di assodato, di consolidato nelle nostre idee, nelle nostre capacità di emozionarci abbiamo dentro, tiriamo fuori diventa bello. Se dentro bene, se dentro non è bene, e quel bene sta a significare che non è compiuto, quel dentro sta a significare che non è già, è già dentro incasinato, è già disordinato dentro. Il disordinato quando esce non diventa bello, rimane disordinato. Se invece quell'ordinato che è bene viene fuori, diventa assolutamente bello. Cosa proviamo davanti a questo bello? Davanti a questo bello proviamo emozione. Che cos'è un'emozione? Emozione significa e-mozio, cioè muovo da. Da me stesso muovo qualcosa fuori. Perché ho ricevuto un input e davanti a questo input muovo fuori la mia maniera di considerarlo. E in questa maniera di considerarlo c'è la mia compiutezza, la gioia di considerarlo, o la mia stanchezza mentale e spirituale nel considerarlo. Perché, come si suol dire, non mi piace. Mi piace o non mi piace. E quindi il meccanismo dell'accettazione del bello e del brutto deriva da questi due fatti. Dal fatto che il bello di per sé è un ordine mandato fuori. Il terzo è di qua. E la capacità di accettare il bello e di rispondere a questo bello viene da un'azione, cioè da un qualcosa che abbiamo dentro. Questa è la definizione di tutto quanto. E vale per ogni arte, e vale per ogni artificio anche, e vale anche per ogni tecnica, non solo per ogni arte. Ma siccome la mia arte è quella musicale, quella della musica, penso che sia giusto parlarne in questi termini. Ovvero la musica, che abbiamo detto, il suono ha creato il mondo. Col suono si crea il mondo. La musica è la più pura del maniere di mandare fuori il bene e catturare la emozione. Perché non ha altre terminazioni esterne. Cioè è solo un suono. Ma questo suono, come abbiamo detto prima, pitagoricamente, può essere in diverse maniere. Può essere stridente, gentile, dolce, acculturato, voluto in un certo modo, cambiato, ripetuto, può essere assurdo, penso ai musicisti del Novecento. Può essere invece scontato, perché ci sono dei nomoi, dei modi di suonare, che sono tutti simili. Penso ai musicisti, per esempio, dell'antica Grecia, ora i nascimentali, che hanno più o meno la stessa maniera di esporlo. Ma in fondo che cos'è? È nient'altro che la gravitazione interna di tutte le nostre emozioni che trovano nel suono la risposta perfetta. Il suono non ha bisogno di un secondo ragionamento. secondo ragionamento sul primo avviene per tutte le altre arti, col teatro, col cinema, con la scultura, con la pittura, con l'architettura, con la letteratura. Non avviene con la musica. Non c'è un secondo linguaggio nella musica. Quello è diretto. O prendi quello oppure non hai nient'altro a cui appoggiarti. chiarisco semplicemente leggi Cavafis, Ungaretti, Montale, ci sono due due modi di intendere. Il primo è quello letterario, il secondo è quello che c'è sotto che è probabilmente simbolico, probabilmente è anche mettiamo anche che non sia simbolico, ma comunque l'interpretazione devi darla. Nella musica l'interpretazione è diretta, ti arriva così, di botto, e può essere assolutamente, anzi, deve essere ammorbidita oppure porta, dedicata, data e indirizzata anche se vogliamo da una terminologia parlata. Nessuna poesia, nessun verso, in nessun posto del mondo è nato senza musica. Non esiste un esempio di perorazione o di poesia, quindi di emozione buttata fuori per una donna, per un uomo o di versi buttati fuori per la divinità, per l'essere supremo, che non sia in musica. C'è sempre stata e c'è sempre stata in maniera che fosse l'antesignana di tutta la musica che è venuta dopo e di tutte le possibilità di sensazioni che abbiamo avuto dopo attraverso la musica. Non parto da quella preistorica se no non finiamo più, però già lì c'è un cenno importantissimo nella musica preistorica primitiva del Neolitico che non c'è arrivata ma la sappiamo oggi e la intendiamo oggi dai canti australiani foeghini nordamericani che sono rimasti nelle tribù. Questa musica è di un solo tipo quasi sempre è mandata all'essere supremo ed è una tiritera cioè un continuo ripetere la stessa cosa perché l'essere supremo capisca perché altrimenti magari se non capisci la prima volta capisci la seconda la terza o la quarta ovunque è così è un'area culturale vastissima cioè è un modello culturale che noi troviamo in tutte le aree culturali possibili della preistoria perché l'amore non è cantato ancora nella preistoria l'amore non è suscettibile al canto pensate un po' che l'amore in sé questo sentimento che è fortemente voluto dalle donne insegnato dalle donne non c'è nemmeno nell'Iliade e nell'Odissea quindi siamo vicinissimi a noi ottocento avanti Cristo siamo vicini non c'è ancora c'è un tipo di Eros che è differente dall'amore che consideriamo noi l'amore che consideriamo noi è anche sentimento è anche parliamo insieme accarezziamoci non c'è non esiste il primo senso il primo segno d'amore viene dato nella lirica greca da Saffo da Alceo da Archiloco da dai lirici greci ed è già la base di tutte le emozioni di bellezza che può dare l'amore nel dolore e nella gioia Saffo di Lesbo inventa una situazione musicale che oggi è identica nello slow è una situazione ad accentuazione dico accentuazione per facilitare perché in realtà nessuno accentuava tutti tenevano larghe o strette le vocali comunque accentuazione un'accentuazione che va dal forte al lento al debole cioè parte molto ritmata e sfuma alla fine del verso si chiama esametro questa cosa che è rimbalzante nella prima metà e invece dolce nella seconda e fa parte pensate un po' parte proprio dai canti preistorici che erano così nelle invocazioni a Dio battute all'inizio e dolci alla fine per tenersi buono il Padre Eterno era proprio una maniera di calare in questo modo l'esametro poi visto in tanti altri modi perché ci sarà un verso un po' cambiato sull'esametro ma sempre di questo tipo ci saranno altri versi ma simili è la base del nostro canto lento dell'elegia del canto d'amore della dolcezza dell'amore e del pianto d'amore dell'addio tutta la poesia tutta la musica e la poesia da Saffui poi mantiene questa situazione per i sentimenti dolci i sentimenti intensi del cuore ma non per quelli passionali non per quelli arrabbiati non per quelli incazzati non per quelli di vendetta non per quelli contro i nemici che sono la seconda cosa la musica contro i nemici la musica contro ciò che non va bene la musica di ribellione è data da un altro metro e da altri poeti sempre greci e si chiama generalmente jambo che è un metro molto ritmato molto a botta è proprio una specie di mitragliata che oggi noi rivediamo nel nostro rock rivediamo proprio nel rock soprattutto nel rock duro questa bionimicità questa binarietà dei sentimenti per esprimere la bellezza dell'amore e la bellezza diciamocelo pure dell'odio sono arrivati fino a noi attraverso un viaggio lunghissimo che è passato pensate un po' nei trovatori ad esempio i trovatori che sono tutti persone di una cultura spaventosa e non sono assolutamente come pensiamo noi cioè così platonici così delicati e dolci da cantare alla donna come un fiore Guglielmo d'Aquitania se ne faceva due o tre alla volta di donna ed era oltre che un nobile un trovatore notevole non era così ma almeno in apparenza la canzone d'amore dei trovatori rimarca la stessa dolcezza in questo modo la bellezza è data dalla spiritualità della donna dalla spiritualità della donna che è la spiritualità del mondo Dante ce lo insegna Minizelli Valcanti e Dante che hanno ripreso questo tipo di armonia ma c'è un altro tipo di trovatore che invece della bellezza dell'amore cerca la bellezza della ribellione perché più di ribellione si parla che di odio questo canto di due vale si chiama sirventese è praticamente il canto del servo quello che dice io ce l'ho col padrone ed è molto più cattivo ricalca il giambo di archiloco e non finisce qua perché noi se vogliamo andare avanti e farla breve avremo sempre questa binarietà della ricerca nella musica perché la musica ci propone il sentimento nella sua corsa nel suo andare ci propone il modo di comprendere quello che sta dicendo l'autore in che campo siamo se siamo nel campo del del piacere o nel campo del dispiacere che sono completamente diversi anche nell'opera opera opera buffa anche nelle arie voi sapete che ci sono nascono nel seicento il melodrama nasce nel seicento con Peri Caccini Monteverdi ed è una imitazione nasce come imitazione della tragedia greca perché il melodrama è un po' parlato un po' cantato come si immaginava che fosse la tragedia greca la stessa situazione si protrae nella canzone nella canzone che è diversissima in Europa diversissima perché abbiamo paesi come l'Inghilterra e la Francia che non hanno nessuna discriminante facolta e popolare sanno mettere insieme le due cose pensate soltanto che in Francia nell'ottocento paesi si antesegnano di tutto in tutte le arti i filosofi i pensatori i poeti i musicisti gli chansonniere si univano tutti insieme erano insieme in cantine che si chiamavano cave la più famosa che verrà dopo non sarà una cave sarà un locale dove appunto si riuniscono le chat noir il gatto nero dove tutti quanti parleranno e d'amore e di rabbia prima contro Napoleone III poi contro tutte tutte le regalità che non accettano quindi ci sono canzoni di ribellione anche qui i due filoni sono mantenuti è alla ricerca della bellezza che è una non disarmonia nell'accentruzione della melodia la melodia deve essere sempre come hanno insegnato i greci i greci hanno inventato una cosa grandissima che è la situazione schematica del verso nella poesia il verso non ha mai due accenti vicini e non ha mai due accenti lontani ovvero sia non ha mai due lunghe vicine non ha mai due lunghe lontane perché è proprio l'armonia riflessuosa del verso che ci arriva e ci dà piacere non c'è cacofonia quindi anche se la parola è un pochino sbagliata in realtà non è solo il cattivo suono è la cattiva altezza o imità lasciatemi questa parola un po' latina che dà il peggio in una musica la musica deve essere sempre quadra nel suo quadro quadrata non per niente e anche questo l'abbiamo detto prima la bellezza è armonia armonia è una parola usata in musica ma è una parola che si dovrebbe usare sempre questo verbo armozzo che significa unire le parti a farne un tutt'uno che va bene è il centro di tutta la cultura greca che non spreca non spreca niente non è non ha assolutamente sbuffi nella scultura tutto è perfetto quello che c'è quello che non deve esserci non c'è cioè l'essenziale della situazione il classicismo non ha questa questa terminologia e non è inteso così soltanto perché viene da lontano è inteso così perché è classifica il bello classifica in quella maniera il bello non si può uscire e sconfinare il bello è essenzialità assolutamente essenzialità si può anche andare contro si può essere si può arrivare a Rococo ma non è il vero bello inteso dalla grecità e dalla classicità quello è arrivato fino a noi è arrivato fino a noi è arrivato in tantissimi poeti a tantissimi poeti è arrivato a tantissimi autori naturalmente il bello del musicale è un qualche cosa che confina con la nostra cultura se noi non abbiamo una cultura bastevole per comprendere prima sentire e poi comprendere cos'è veramente bello non possiamo farci nulla e quindi qui si ribatte il fatto la bellezza va insegnata subito va insegnata ai ragazzi ai bambini e ai ragazzi cioè gli si fa capire che questa musica non è e questa è e gli si fa capire anche perché gli si fa vedere qualche oggetto palazzi paesaggi si sentono le sue impressioni e si tenta di fargli capire si tenta almeno di fargli capire perché due colori non vanno bene assieme e altri invece sono un'armonia non finirò mai di pensare che questo è il compito fondamentale di un educatore perché un ragazzo che possiede dentro di sé il senso del bello avrà sempre difese in tutta la sua vita sarà libero prima di tutto e poi saprà riuscire a comprendere anche altre cose il bello ha dei link notevoli cioè tutto quanto va riclassificato in funzione del bello che ho dentro e a quel punto lì anche le cose che non contano le butto via e quelle che contano le tengo in considerazione a quel punto lì arrivato a 17 e 18 anni non posso più sbagliarmi su tante scelte perché posso essere un 17enne che fa casino va benissimo che si beve la birra va benissimo che ogni tanto si sbronza va benissimo che sente il rap va benissimo ma che sa che esiste anche Sibelius che esiste Fabrizio D'Andrea che esiste Chad Becker in musica lo sa questo è un compito fondamentale io ho fatto 40 anni di scuola e di 15 di università ma la materia non conta la prima cosa sempre quando arrivavo davanti all'aula prima di entrare mi dicevo tu adesso entrerai parli per 4 ore e se non esci stremato distrutto che non ce la fai più vuoi solo andare a dormire significa che non hai fatto un cazzo tutto il giorno perché il senso non è proporre nozioni è proporre come arrivare alle nozioni insegnare è come dire qualcosa ai ragazzi non che loro non sanno ma fargli credere soltanto che l'hanno dimenticata e fargliela ricordare perché in realtà dentro ce l'hanno incorpore ce l'hanno basta tirarla fuori che è un po' più della maieutica è qualcosa di diverso della maieutica ma il fondamento iniziale è che noi non potremmo mai aspicarci una società in cui ci si capisce tra razze diverse e generi diversi anche tra ceti diversi anche tra politiche diverse se prima non abbiamo il senso dell'armonia del bello quello avvicina quello unisce quello fa partecipi grazie grazie io vorrei dire solo una cosa grazie ma le parole hanno un peso e noi siamo bombardati da parole banali usurate tutti noi per praticità per pigrizia usiamo parole che sono consumate e talvolta non significano niente e invece ogni parola che abbiamo sentito oggi da Roberto vecchioni cantautore artista professore aveva un senso e poi vabbè quando ha parlato di flessuosità nella lingua sarei stata per ore proprio perché è così vistoso il contrasto con la banalità del linguaggio complessivo nessuno di noi è insegnante ma il concetto finale credo che ce lo siamo portati tutto io vi ringrazio ma sappiate che oggi i nostri ragazzi in media sanno 600 parole 10 anni fa ne sapevamo 6.000 e con questo ci lasciamo grazie grazie da 6.600